Cosa ha definito il triplete dell'Inter? Io credo che per me sia dover commentare questa frase. Purtroppo anche in passato ha detto delle frasi poco piacevoli nei confronti dei ragazzi della primavera, adesso si è ripetuto con questo del triplete. Io credo che il calcio deve unire, non dividere. Però soprattutto perché manca di rispetto alla storia di una grande società come quella nostra. Lui si deve ovviamente al fatto che l'Inter fosse composto da tutti i giocatori non italiani, stranieri. Questo è un uno come te, che italiano non è ma che di fatto l'è diventato, a cui usce il fastidio? Magari del fastidio, abbiamo fatto una storia, è anche quello. Però io credo che nel 2015 dovrei parlare di questa cosa per me.